Edizione della Notte, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione l'ultimo della giornata. In apertura parliamo ancora del referendum con una percentuale del 60,78% superiore anche al dato nazionale. Anche il Molise ha detto no alla riforma costituzionale proposta da Matteo Renzi e sostenuta in Molise dal governatore Paolo Frattura. Le dimissioni del Premier sono ovviamente destinate ad avere contraccolpi anche in Molise. Paolo Frattura e il segretario regionale del PD, Micaela Fanelli, fedelissimi di Renzi, perdono una sponda importante per i rispettivi destini politici. Pasquale Di Bello. Con una valanga di no addirittura superiore al dato nazionale, anche il Molise rispedisce al mittente la riforma costituzionale firmata da Matteo Renzi e Maria Elena Boschi ed ispirata dall'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Anche dal Molise, oltre che da tutta Italia, la lezione per i due enfant prodige della politica italiana e per l'Augusto Vegliardo è durissima. Gli uni e l'altro ne escono letteralmente con le ossa rotte e, insieme a loro, tutto il fronte del sì. Il dato del Molise si attesta al 60,78% per il no e al 39,22% a favore del sì, a fronte di un'affluenza pari al 63,92%. Una differenza in termini percentuali oceanica, superiore a oltre 20 punti percentuali tra il no e il sì. Renzi, circa un'ora dopo l'apertura delle urne, ha rassegnato le proprie dimissioni, gesto indubbiamente apprezzabile in un paese dove la saldatura alla poltrona è tra gli sport nazionali preferiti. Il suo passo indietro, oltre che sullo scenario nazionale, è destinato ad avere pesanti ripercussioni anche su quello regionale. Sia il governatore Paolo Di Laura Frattura, sia il segretario regionale del PD, Micaela Fanelli, sono entrambi di stretta osservanza renziana e sul sì al referendum hanno messo in gioco gran parte del proprio futuro politico. Persa la sponda nazionale, rappresentata dal segretario premier, sono anch'essi in caduta libera. Una legnata, quella ricevuta, che spegne ogni velleità di candidatura, regionale o nazionale, per entrambi. I dati che ne attestano la sconfitta sono ancora più eclatanti se si guarda al risultato locale. I sostenitori del sì perdono sonoramente in quelle che sono le roccaforti del potere regionale, Campobasso, Riccia, San Martino in Pensilis e Termoli. Un segnale preciso in vista delle prossime elezioni regionali, che potrebbero subire una accelerazione in caso di elezioni politiche anticipate. Un'ultima notazione riguarda la polemica scatenata da Renzi sul Molise. Quella della indennità, la cui difesa avrebbe determinato tra i consiglieri regionali un largo schieramento per il no. Schematizzando, i sostenitori del sì alla frattura hanno sostenuto l'intenzione di tagliarsi i vergognosi privilegi di cui godono. Quelli del no alle parole di Renzi si sono stracciati le vesti gridando Noi difendiamo la Costituzione e non le nostre indennità. Adesso, al referendum celebrato, entrambi gli schieramenti a cui fanno riferimento i consiglieri regionali hanno la possibilità di dimostrare la propria onestà politica e intellettuale. Facciano in mezza giornata una legge di un rigo che abbatte le laute indennità. Per farlo non occorre cambiare la Costituzione, ma una semplice legge regionale. Così i molisani potranno capire chi sta effettivamente dalla loro parte e chi, invece, continua a prenderli in giro. Ha vinto il no in maniera inequivocabile ed è naufragato il partito della nazione a cui Renzi ha dedicato il suo impegno in questi anni. La dichiarazione del deputato di Areadem Danilo Leva, secondo il quale ha fallito l'idea della politica, soprattutto a sinistra, possa essere ridotta la sola gestione del potere. Ora, proseguito Leva, questo vale più che mai in Molise, dove non viene premiata l'arroganza. I cittadini molisani ci dicono che ci vuole più umiltà. Lo schianto fragoroso del Partito Democratico molisano, ha concluso Leva, impone al segretario regionale di prenderne atto e fare un passo indietro, lasciando che siano altri a ricostruire il senso di appartenenza ad una comunità politica che altrimenti non ritroveremmo più. Bisogna ricominciare da zero nel PD e fuori dal PD, anche per ricostruire un'alleanza nuova di centro-sinistra capace di guardare al futuro. Questa è dunque la posizione di Danilo Leva. Abbiamo condiviso un progetto che puntava al cambiamento, invece ha commentato il governatore Frattura alla riforma costituzionale del governo Renzi, seppure segnata da qualche limite. Poteva essere lo strumento giusto. I cittadini hanno deciso altro, i molisani in linea con il resto del Paese ci hanno dato un'indicazione chiara. La prova di partecipazione democratica anche della nostra regione, ha aggiunto Frattura, resta un fatto bellissimo. Avanti con l'impegno, la passione e il cuore mostrati in questi mille giorni alla guida della nostra Italia. Ed ora sentiamo il commento dei rappresentanti molisani del Comitato per il No che hanno tenuto una conferenza stampa. L'intervista. Il sole è sorto anche oggi, che sole è? Mi verrebbe da dire che è il sole dell'avvenire, perché noi questo No lo abbiamo fortemente portato avanti, ma guardando al futuro. Noi vogliamo un forte cambiamento di questa società, soprattutto noi giovani. Difatti il voto contrario alla riforma maggiormente è stato quello dei giovani. Ma noi crediamo che la Costituzione, per una serie di congiunture favorevoli che in quel periodo hanno portato alla scrittura di una così bella carta costituzionale, ci possa favorire in questo cambiamento. Quindi non è da cambiare la Costituzione. O meglio, se vogliamo intervenire sulla Costituzione dobbiamo farlo con rispetto e con riguardo del grosso lavoro che è stato fatto circa 70 anni fa. Si aspettava un risultato così ampio, così schiacciante, sinceramente? Sinceramente no. Stavamo veramente in trepidazione. Ieri sera aspettavamo tutti insieme, noi del Comitato, di cui fanno parte diversi partiti, associazioni, eccetera. Ma non ci aspettavamo questa proporzione. Cosa accadrà adesso? Beh, adesso la procedura si è avviata, almeno oggi dopo pranzo si avvierà la procedura, come ha detto il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha riconosciuto la sconfitta, la coccente sconfitta. Io credo che prima si dovrebbe ricreare un clima di unità all'interno della nazione, che lo stesso Presidente e lo stesso Partito Democratico ha creato difficile. Per quanto ci riguarda, noi attorno alla Costituzione, ai principi della Costituzione, abbiamo questo obiettivo di pacificare l'Italia, perché questo era l'obiettivo nostro e su questo continueremo a lavorare. Il Comitato di noi è stato accusato di non volere il cambiamento, è così? Ma noi credo che abbiamo difeso la Costituzione che consente, ha consentito per 70 anni il cambiamento e far arrivare questa nazione al sesto posto della potenza mondiale. Quindi non risiede il cambiamento solo nella Costituzione. Risiedono nelle leggi ordinarie un funzionamento delle attività delle Camere, del Senato e dei Consigli regionali, perché sono sedi legislativi. Quando si parla dei costi della politica e della velocità dell'approvazione delle leggi, cambiare i regolamenti della Camera e fare delle leggi ordinarie per abbassare le indennità a debutati, senatori e consigli regionali. Quindi è una cosa molto più semplice di quando si pensi. 62,60% a livello provinciale, un risultato che va oltre ogni previsione. Questo il commento a caldo del Comitato per il No al referendum di Isernia, che ha subito organizzato una manifestazione in Piazza Celestino V, nel cuore del Centro Storico e per noi c'era Enzo Di Gaetano. Risultato al di là di ogni previsione, ha vinto la gente ed ha vinto la voglia di difendere la nostra libertà e la nostra Costituzione. scritta da chi ci ha liberato da una dittatura. Questa la sintesi a caldo del Comitato per il No, trasversale a partiti e movimenti di sinistra, che ha mobilitato l'opinione pubblica di Isernia e provincia attorno alla difesa della Costituzione. E i numeri della provincia di Isernia parlano chiaro. Mentre la percentuale dei No in Molise è del 60,78%, in provincia di Isernia è stata del 62,59%, con punte del 68,05% a Venafro e del 66,85% a Isernia. Il No vince anche ad Agnone, ma senza trionfare, col 52,12%, mentre perde solo a Frosolone, con il 47,67%, unico dei quattro centri maggiori, a far vincere il Sì. Ma tornando alle percentuali di insieme, la sensazione è netta. La provincia di Isernia, con il suo 62,59%, ha bocciato senza appello la riforma costituzionale. Allora, reazione immediata del Comitato Provinciale per il No, conferenza stampa qui nel centro storico di Isernia, al punto tradizionale di raccolta del Comitato. Quali sono le prime impressioni a caldo? Innanzitutto fatemi esprimere la mia gioia a nome di tutti, a nome di tutte le componenti del Comitato, di tutti i cittadini e i militanti che hanno dimostrato ancora una volta di tenere a cuore la nostra Costituzione. Grazie a tutti per l'impegno profuso e grazie soprattutto ai cittadini di Isernia e provincia che hanno dato una bellissima dimostrazione, dando una lezione sonora a Renzi, al suo governo e agli arroganti che hanno provato a stravolgere la nostra Costituzione. Oggi è una bellissima giornata per il nostro Paese, una bellissima giornata per la nostra democrazia. Ringrazio di nuovo tutti i cittadini elettori di Isernia e provincia. Si è votato solo per il referendum o c'è anche qualcos'altro in ballo? C'era qualcos'altro in ballo? Beh, certamente la ragione principale è quella della difesa della Costituzione e la Costituzione ha vinto ancora una volta, è stata difesa dai cittadini italiani per la terza volta in 15 anni, hanno detto no al suo stravolgimento. Certamente il significato politico va ben oltre il referendum stesso. I cittadini hanno detto a questo sistema di potere, a queste oligarchie finanziarie, economiche e istituzionali che c'è bisogno di cambiare in questo Paese. Il Paese è stato unito da nord, dal centro, dal sud, dalla Costituzione in nome dei suoi valori, in nome della democrazia, del lavoro, dell'uguaglianza sociale. E sempre a proposito di referendum c'è una curiosità e finita con un pareggio singolare. Il risultato è venuto fuori dalle urne a Petrella Tifernina, piccolo comune della provincia di Campobasso. Gli elettori si sono infatti perfettamente divisi a metà tra favorevoli e contrari alla riforma. Il risultato è stato di 329 voti a favore e 329 contrari. Nel Paese gli eventi diritto erano mille, l'affluenza è stata del 66,5%, pari a 665 votanti. Ci sono state anche tre schede bianche e quattro nulle. Bene, voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento perché mancano ormai poche ore alla giornata dell'immigrazione molisana nel mondo. I riflettori si accenderanno domani, 6 dicembre, dalle 17 all'auditorium Unità d'Italia di Isernia. La serata sarà trasmessa in diretta a TV a reti unificate anche dalla nostra emittente. A partire dalle 20, orgogliosi di essere molisani, ha detto il Presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Cotugno, che ha anticipato i contenuti dell'evento al microfono di Giuseppe Carriere. Sentiamo. Orgogliosi di essere molisani, così già qualche giorno fa il Presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Cotugno, sottolineava l'importanza delle forti radici che uniscono tutti i figli di questa regione. A loro è dedicata la giornata dell'immigrazione molisana nel mondo, la giornata evento che dal pomeriggio di domani, 6 dicembre, fino a sera, raccoglierà all'auditorium Unità d'Italia di Isernia il meglio dell'offerta culturale, storica, tradizionale della regione, attraverso un percorso che ricalca le vie del tratturo. Avremo una grande serata, io sono convinto, in onore dei molisani nel mondo, e sono veramente tanti, che hanno fatto il lustro della nostra regione in giro per il mondo, per le tante cose belle, straordinarie che hanno realizzato, ma sarà anche una festa per i molisani qui, per ribadire che orgogliosamente molisani, noi dobbiamo remare tutti nella stessa direzione e dobbiamo ribadire questo orgoglio molisano, che molte volte, vuoi per i numeri, vuoi per altre cose, molte volte viene sbeffeggiato. La notizia confermata nelle ultime ore è la presenza dell'attore Elio Germano, vincitore di una palma d'oro a canne, più volte del David Di Donatello, del nastro d'argento, di tanti prestigiosi premi, uno dei migliori attori italiani che sarà insignito del riconoscimento di ambasciatore del Molise nel mondo. Nel cast della serata, Piero Ricci e Nova Musa, l'orchestra stabile di Isernia Antonello Carrozza, Roberta Carrese, finalista The Voice, e ancora Luis Mister Jazz, ma se David partecipa anche in Miss Morise 2016, Benedetta Belmonte. Noi avremo nel foyer un percorso ideale che è quello del tratturo della transumanza, che vivremo in quell'ora prima dello spettacolo vero e proprio, proprio per la valorizzazione delle risorse turistiche, archeologiche della nostra regione, in un percorso ideale, arricchito anche con la storia, le tradizioni, la cultura del nostro Molise, che non è secondo a nessuno e che è un piccolo scrigno di bellezze. Avremo la presentazione del libro di Bevilacqua, che ha dedicato un bel capitolo sulle bellezze del Molise, e poi avremo la manifestazione che coinvolgerà le scuole, coinvolgerà tutti i sindaci e tutte le amministrazioni regionali, tutte le autorità regionali, per cui sarà, io sono convinto, una grande festa, ma soprattutto un'occasione per ribadire veramente l'orgoglio molisano, che deve essere sempre all'altezza della nostra storia. La giornata è dedicata alla memoria di padre Giuseppe Tedeschi, nato iersi, emigrato in Argentina, e barbaramente ucciso 40 anni fa alla Plata, dove, come religioso, si era battuto sempre in difesa dei più deboli. L'evento sarà trasmesso a reti unificate in Molise e in diretta streaming a beneficio dei molisani nel mondo. Ben 42 associazioni di molisani nel mondo sono state allertate per la diretta streaming, poi avremo a reti unificate la diretta per la regione, perché sicuramente noi avremo il pienone nell'auditorium, però più di mille persone non riusciremo ad avere e quindi tanti saranno i molisani che nel Molise e nel mondo potranno vedere però in diretta. Un coinvolgimento globale dunque nel nome di un Molise che, seppure a migliaia di chilometri di distanza, rappresenta e unisce tante anime e comunità. Nessuna offerta per l'acquisto della sede che ospita la Prefettura di Campobasso. L'immobile è stato messo all'asta con prezzo base di 3,3 milioni di euro dalla provincia di Campobasso nell'ambito del Piano delle Alienazioni 2016. Lo storico palazzo si trova in Piazza Pepe, da una superficie complessiva pari a 6.128 metri quadrati. È in locazione al Ministero dell'Interno con un contratto in fase di rinegoziazione. Ora la provincia avvierà una nuova procedura. Nel pomeriggio, intanto, non ci sono state offerte per la vendita dell'edificio la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di via Mazzini, di proprietà dell'amministrazione provinciale, la base d'asta di 1,9 milioni di euro. Esposto in procura la Corte dei Conti di tre consiglieri di opposizione contro le somme che il Comune di Termoli ha speso per il cartellone delle state termolese, sotto accusa e finiscono rimborsi spese giudicati poco chiari della Proloco e i viaggi in aereo fino in Colombia per alcuni artisti. Manuela Iorio. Stamattina l'esposto in procura, il passo successivo alla Corte dei Conti, lo hanno presentato tre consiglieri di opposizione al Comune di Termoli, Antonio Di Brino, Annibale Cerniello e il grillino Nicola Di Michele, che chiedono alla magistratura di indagare sulle spese autorizzate dall'amministrazione nell'ambito del cartellone dell'estate termolese. Un programma presentato dal sindaco con un importo di 170 mila euro che però poche settimane fa ha avuto bisogno di una variazione in bilancio per 53 mila euro. Spese definite pazze dal consigliere del nuovo centrodestra Antonio Di Brino che ha fatto una richiesta di accesso agli atti e ha trovato quello che ha definito un grande pasticcio e per cui chiede le dimissioni del sindaco Angelo Sbrocca che detiene anche la delega al turismo. Non è chiaro nulla rispetto a quella che è stata l'estate termolese del 2016 di cui abbiamo attraverso l'accesso agli atti, visto che cosa è accaduto, parte, io ho avuto modo di dirlo in consiglio comunale durante l'approvazione della variazione di bilancio per il turismo, ho detto che le spese per le attività di supporto alle manifestazioni erano di gran lunga superiori alle spese delle manifestazioni stesse. C'era qualcosa che non andava, visto quello che abbiamo trovato nelle fatture, nelle ricevute legate alle determine di liquidazione, devo dire che abbiamo veramente scoperchiato quello che è un vero e proprio vaso di Pandora e per questa ragione il sindaco, l'assessore al turismo, se ne deve andare. Nell'esposto sono indicate 27 determini dirigenziali che autorizzano pagamenti poco chiari secondo i tre consiglieri. Molti sono in rimborsi alla Proloco che ha supportato la gestione degli eventi del cartellone. Ci sono però scontrini di cena in ristoranti senza capire ad esempio chi ha consumato, acquisti di materiale senza giustificazioni. Stessa cosa per il noleggio di un pullman per quattro giorni che alla collettività è costato oltre 2.000 euro. Per il premio Termoli ancora, che per chi non lo sa è una rassegna di arte contemporanea, sono stati acquistati dalla Proloco Lettini Prendi Sole e un aspiratore per pulire le piscine. Spesso le richieste di rimborsi sono effettuate con un foglio scritto semplicemente a mano, contestata anche la modalità con cui il delegato alla cultura Michele Macchia Godena contatta gli artisti bypassando le agenzie e che ha comportato nel caso del gruppo di Maiteon Tele spese per 6.000 euro per viaggi aerei dalla Germania e nel caso di un componente del gruppo il pagamento del viaggio di rientro dalla Colombia. Insomma, nessun controllo sulle spese secondo i consiglieri che ora chiedono la testa del sindaco. Anche nella sede provinciale di Sernia, del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, è stata celebrata la ricorrenza della patrona Santa Barbara. Per noi c'era Sergio Rivincenzo. Anche a Sernia la ricorrenza di Santa Barbara è stata celebrata con una cerimonia sobria, ma al tempo stesso molto sentita, non solo dai Vigili del Fuoco, ma anche dalle autorità presenti, dai loro familiari e dai cittadini, sempre grati per il prezioso lavoro che il corpo svolge per garantire sicurezza alla collettività. Su questi uomini si può contare sempre 24 ore al giorno, sia che si tratti di un intervento banale, sia in caso di pericoli ed emergenze di varia natura. Dopo la messa celebrata dal vescovo Monsignor Camillo Cibotti, il comandante provinciale Luigi Giudice ha tracciato il bilancio di un anno di attività, segnato anche dagli interventi nelle zone colpite dal terremoto. Si chiude ancora un anno positivo per il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sernia, 2700 interventi di soccorso, senza contare quelli che abbiamo prestato in soccorso delle popolazioni nella zona dell'Italia centrale per effetto del sisma. È stato quindi un anno positivo, però nel mio messaggio conclusivo ho voluto sottolineare come il Corpo Nazionale sia anche una società di ingegneria, perché il suo management è fatto di ingegneri ed architetti, e come il Corpo Nazionale sia componente fondamentale della protezione civile, intervenga in caso di utilizzo di armi non convenzionali nell'ambito della difesa civile e sia sui tavoli tecnici di normazione europea e internazionali per quanto riguarda la prevenzione incendi. Tra le novità di quest'anno, anche l'inaugurazione del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco a Venafro, un presidio fondamentale per prevenire gli incendi o comunque per intervenire in tempi rapidi, anche in caso di incidenti stradali. La cerimonia si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti al personale che ha tagliato il traguardo della pensione e ai dipendenti che hanno raggiunto i 15 anni di servizio. Poi tutti nel piazzale interno del comando provinciale di Contradario, dove per la gioia soprattutto dei più piccoli sono state simulate alcune manovre che normalmente i Vigili del Fuoco compiono nello svolgimento della loro missione, quella di salvare vite umane. 15 anni di attività festeggiate insieme al vincitore di Ballando con le Stelle, protagonista di Segreto, il servizio. Il centro commerciale Centro del Molise di Campobasso ha festeggiato nella giornata di ieri 15 anni di attività e di presenza sul territorio, con una programmazione come di consueto ricca, iniziata dalle prime ore del mattino, poi nel pomeriggio dedicata interamente ai bambini, con gli idoli del momento Elsa, Anna e Olaf. Una festa per ringraziare la cittadinanza, dell'affetto e della presenza quotidiana, con iniziative per adulti e bambini. Già dalle 15.30 con lo spettacolo, un tribute live con etichetta Frozen, in particolar modo il cartone animato famoso, la Principessa dei Ghiacci, che ha lietato la permanenza di tutti i nostri piccoli visitatori. Alle 17.30, proprio per accontentare e premiare soprattutto questa massiccia affluenza che ogni anno ci rende felici, in questo giorno importante, abbiamo pensato bene appunto di ospitare, di invitare il protagonista del segreto, Iago Garzia, che insomma ha molto molto seguito, come Sop viene molto seguito. Una domenica di festa per il centro commerciale, non solo quindi per i bambini che hanno potuto assistere allo spettacolo della Principessa di Ghiaccio, ma anche per i visitatori numerosi intervenuti per la presenza del super ospite Iago Garzia, attore amatissimo dal grande pubblico, soprattutto per la sua partecipazione alla serie TV Il Segreto, Una Vita e al programma televisivo di Milli Carlucci, Ballando con le Stelle. Prima di tutto ringraziare al centro del Molisse, a Maurizio per avermi portato qua per il quindicesimo anniversario e dopo anche un saluto molto forte per tutta la gente che guarda questo canale e per tutta la gente anche che lo segue. Quindi niente, auguri, buon Natale e felicità. Intervista, foto, selfie e abbracci con l'attore spagnolo. Ma è presente anche all'attesissimo taglio della torta di circa 250 kg, offerta a tutti i visitatori del centro commerciale. Soddisfatto è il direttore del centro del Molisse, Maurizio Mangia, che da 15 anni cura la regia di questo evento e delle numerose iniziative in vista del Natale. Grazie, intendo degli auguri, grazie da parte di tutto il centro del Molisse, sicuramente è un traguardo importante, i 15 anni di attività che in questo contesto socio-economico che stiamo vivendo, sicuramente ci fa onore e ci rende molto soddisfatti. Dopo questo tradizionale taglio della torta, che quest'anno sfiora i 250 kg, quindi segna l'inizio di un ricco calendario di eventi natalizi, quest'anno molto imbrondati sulla tombola, che permetterà ai nostri visitatori di vincere tantissimi premi, tantissimi buoni spesa, tantissimi prodotti natalizi, che appunto vanno ulteriormente a premiare i nostri utenti. 3, 2, 1, tanti auguri in centro del Molisse! Bene, era il nostro ultimo servizio, ci fermiamo qui, grazie come sempre per aver preferito la nostra informazione. Vi ricordo che la nostra informazione tornerà puntuale come sempre domani mattina, a partire dalle 7 con la rassegna stampa. Nel frattempo vi auguro di trascorrere una serena rotta. Arrivederci.